Stasera, dopo avervi visti aprire il progetto di Mario Frutti e dopo aver girato tutta Italia siamo con noi in Calova. Grazie a tutti. 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 ,... ,... ,... ,... ... ,... ... ,... ... ,... ... ... ... ... ... ... Grazie. 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 Il prossimo brano si chiama Micanzia e sta scritta da Luceno Gringaro mio padre. e parla delle bagnate dei mercati antichi a Messina. Grazie a tutti. 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 , a tutti. a tutti. , 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 a tutti.